Siamo in Londra con Nazek Ramadhan, direttore di Migrant Voice. Parliamo del problema del racismo che sembra essere fulgato dal risultato di live. Questo è quello che credi e hai anche rappresentato alcuni casi di attacchi racistas che probabilmente connessano a questo risultato. Sì, davvero. In Migrant Voice, siamo molto preoccupi per il risultato del risultato di hate crime e delle incidenti racistiche contro i migranti europei, ma anche altri migranti. Come abbiamo visto, all'interno della social media, all'interno della notizia, molti nostri membri hanno contattato a ciò che stavano, che stavano e che stavano connesso di queste attacchi, ma anche che sono molto ansiace e molto worried sulle futuree in l'UK, la loro livelihoode in l'UK, dopo il risultato del risultato del voto. Perché, ovviamente, molti di loro vivono qui per molti anni. Molti di loro non appartono per un passaporto e citizenship perché pensano che erano europei, hanno il diritto di lavorare e lavorare dove vogliono. hanno stabilizzati comuni qui, hanno jobs, hanno famiglie, con i bambini, con i bambini, con i bambini. Quindi, loro sono davvero preoccupi, soprattutto per i bambini di hate crime. E siamo molto preoccupi che abbiamo chiamato il governo a ralire in supporto degli migrani, e anche a condividere le recenti attacchi, che sembra ancora più alto. Abbiamo anche organizato oggi un'emergenza meeting con alcuni dei nostri colleghi nel nostro settore per discutere il risultato del risultato di hate crime contro i migrani, e per vedere cosa possiamo fare insieme, come possiamo lavorare insieme per risolvere questo problema. 52% dei Britanni votano a lasciare. Non possiamo pensare che la maggior parte di loro sono raciste. Ho spero che i casi sono isolati. Assolutamente. Oh, we are not saying that, you know, people who voted to exit are racist, not at all, because people have different reasons for voting to remain or to leave. And Migrant Voice, as an organisation, as a charity, we did not have a stand on this. But we think that some of the supporters of the exit from Europe have, you know, exploited this vote, especially those who have, you know, racist motives and who do not like, you know, migrants and Europeans to be in the UK, they exploited the opportunity to launch their attacks and to show their hostility. So we are really, we understand that most people are not in the UK, are not racist, are not hostile towards migrants. But those incidents are increasing and we are concerned, rightly so, as an organisation representing the voices and the views of some of the migrant communities. in Britain, in particular, here in London, we see anywhere shops and business which are managed by people who are not of a British heritage. So, okay, how can we imagine a country with a sharp decrease of migrants? is not possible. Well, this is maybe not the views of Martin Vos, but my own views personally. I think the reason we live now in London and London is a very diverse, one of the most diverse cities in the world and as a result, is one of the most successful cities in the world. and we know that diversity and all these talents from different parts from the world actually do make London the successful city that it is. And we think, I mean, we're not imagining now London will be empty or emptied of all these talents and people will suddenly all start to leave. But they bring a very important contribution to life in London and they make it the city, it is a successful city, it is. The situation in London is different. London is a diverse city and people are used to having this richness, if you want, and people from different parts of the world living in the city.